Certe emozioni non si possono raccontare. Ora toccate la voce, il talento. Il prossimo potresti essere tu. Ogni grande avventura si conclude con un grande epilogo. Ogni storia riserva in sé un magico finale. Questo è una storia iniziata mesi fa con dei protagonisti che a questo palco lo sognavano soltanto, ma che stasera sono pronti a far tremare con la loro voce. Quindi, signore e signore, mettetevi comodi, perché tra musica, sorprese, risate ed intrattenimento, se è vero che il meglio deve ancora venire, stasera se ne vedranno delle belle. Ricomincia da qui, sogni ancora anche tu, questa festa si accende per me. Basta crederci, sai, cambiali tuoi dai, vorrei anche l'immenso con noi. Se ti sembra che sia tutto buio e che il mondo fai dopo lì giù. A terra e sogni con me, sarai a bordo anche tu, questo viaggio una festa sarà. Che lo spettacolo abbia inizio! Che lo spettacolo abbia inizio! Che lo spettacolo abbia inizio! Grazie a tutti.